rete fogliata camo system americana molto leggera facilmente trasportabile confinibile al massimo si può tagliare facilmente è bifacciale nel senso che si può utilizzare da ambo le parti in questo caso abbiamo una rete continentale boschiva questa parte abbiamo la predominanza del verde per cui mimetizza molto bene si può movellare come uno meglio crede si può mettere in verticale in orizzontale agganciare con delle semplici fascette oppure utilizzare l'apposito paracord da questa parte troviamo la parte più brown più marrone per climi più secchi più asciutti il paracord che andremo a utilizzare del cordino che abbiamo in vendita nel sito cordino in la paracadute molto resistente con all'interno dei fili in kevlar che lo rendono molto rigido e resistente alle intemperie la rete è antibatterica antimuffa può rimanere esposta all'aperto venduta al metro ogni metro è alto due metri e quaranta poi la lunghezza ognuno decide la quantità che acquistare si può tagliare molto facilmente con un semplice paio di forbici e il cordino viene passato in maniera perimetrale se va agganciata in qualche posto o anche centrale se intendiamo fare una cosa molto rigida e molto ferma